Grazie Presidente, Ministro, colleghi senatori e deputati. Non so se Ministro, lei conosce la teoria della rana e dell'acqua calda, della pentola dell'acqua calda. Prende una rana, la butta in una pentola di acqua calda bollente, la rana sente la temperatura, fa un colpo di coda perché sente che potrebbe morire e si salva. Se invece prende una rana e la mette in acqua fredda che però inizia a riscaldare poco a poco, alla fine la rana crepa. Ecco la rana, è il popolo italiano. Ci state abituando e portando poco a poco ad una guerra, provando a nasconderlo, perché altrimenti l'opinione pubblica oggi sarebbe estremamente contraria. Appunto un intervento armato dopo due precedenti fallimenti, forse il primo politicamente più accettato, ma il secondo intervento e tanti in quest'Aula hanno votato a favore. Ormai è, come dire, opinione condivisa anche da coloro che hanno votato a favore del secondo intervento in Iraq che sia stato un errore politico strategico incredibile, nonché un'azione criminale. L'opinione pubblica oggi con le alluvioni che causano morti con la disoccupazione a questo livello non accetterebbe di andare a buttare quattrini dei contribuenti in Iraq. Sostanzialmente poi, mi perdoni l'espressione, per sacrificare le natiche italiane salvando le natiche nordamericane, perché di questo si tratta. Perché quello che è cambiato nelle ultime settimane sono state le votazioni, le elezioni negli Stati Uniti d'America, dove da sempre i repubblicani che portano avanti maggiormente dei democratici, ma anche i democratici lo fanno gli interessi delle lobby e degli armamenti, stanno pressando moltissimo Obama affinché intervenga in maniera più strutturata, più potente in Iraq. E non è un caso che Obama recentemente ha twittato una frase piuttosto chiarificatrice, non si può sconfiggere il terrorismo tenendo Assad ancora al comando, perché ci sono pressioni e delle multinazionali nordamericane che spingono per un intervento armato e in generale della politica nordamericana in quanto Putin non ha abbassato la testa. E come tutti sappiamo, ma facciamo finta di dimenticare, in Siria c'è una base utilizzata dai russi e oggi ci troviamo di fronte all'ennesima, anzi a una nuova e moderna guerra fredda tra due colossi, un colosso morente e comunque in seria difficoltà, più che economica, politica, che sono gli Stati Uniti d'America, e un colosso forse ancora in difficoltà dal punto di vista economico, ma all'avanguardia dal punto di vista politico che è appunto la Russia. E noi, anziché fare una politica snella, infilarci anche nelle crepe del sistema di uno e dell'altro e fare gli interessi del popolo italiano, noi come sempre facciamo i lacche degli Stati Uniti d'America che ordinano e noi eseguiamo in maniera proprio suddita da sudditi gli ordini dei nordamericani. Eppure delle soluzioni nel 2014 le potremmo portare come paese italiano, come Italia. Innanzitutto capire da dove provengono questi finanziamenti, lo diceva bene dell'ISIS, lo diceva bene il collega Artini. È coinvolta la Turchia perché se no basta fare doppio gioco, l'intelligence lo saprà se sono coinvolti o meno. È coinvolti i sauditi perché di quello si tratta. E poi, veniamo recentemente da una missione interessantissima in Giordiana e Libano, tutti le forze politiche che abbiamo incontrato sostengono che la causa principale delle problematiche nella regione sia il conflitto israelo-palestinese. Probabilmente no, esagerano e la loro è anche una visione strumentale, ne siamo convinti. Però è evidente che questo sia una delle cause evidentemente dei conflitti della zona. E l'Italia che posizione sta prendendo su questo? La stessa che prende nei confronti dell'alleato nordamericano, una totale sudditanza nei confronti di Israele quando potremmo fare una politica più snella in favore del diritto internazionale, del rispetto delle Nazioni Unite, esattamente quello che dicevano i nostri colleghi precedentemente. E oggi si deve coinvolgere l'Iran, Ministro, per forza, perché è un attore importante. Ancora andiamo dietro all'asse del male, quando non ci hanno mai attaccato e le sanzioni che gli abbiamo applicato hanno, nello stesso identico modo in cui avviene con la Russia, pregiudicato la crescita economica di una serie di aziende, noi che con l'Iran siamo sempre stati un partner privilegiato. Oggi occorre inserire nel dibattito l'Iran e provare assieme a risolvere un conflitto tenendo presente che soltanto gli Stati Uniti d'America, che sono in conflitto di interessi in Iraq in quanto vantano oltre 35.000 contractors nella zona, essendo in conflitto di interessi che hanno in un certo senso tutto l'interesse a non risolvere del tutto certe questioni perché in acqua e torbide si pesca meglio. Concludo, mi conceda, lo sa che gliel'avrei chiesto, una piccola battuta rispetto alla maggioranza del Partito Democratico, rispetto al mondo degli aerei, c'è la Serracchiani che li utilizza ai voli di Stato per andare da Ballarò, c'è il Presidente Boccia che li vorrebbe utilizzare gli F-35 per spegnere gli incendi, noi mandiamo in tornado pensando davvero di fregare l'opinione pubblica, parlando soltanto di ricognizione quando succederà magari una bomba e poi parleremo di legittima difesa e lei gradiremmo che ci rispondesse in questa occasione anche dell'utilizzo di un Falcon per farla accompagnare a casa. Grazie a tutti.